si perchè avrei già lo volete e quindi è bella e così e che sono gli altri tanto qui li avrebbero attaccati e poi per lui e poi per lui e va bene e va bene e va bene e va bene e allora e allora lo fai mirato ciao 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 ciao